Cosa fa Eagle Projects per aiutare aziende e imprese ad attuare i progetti del PNRR? Eagle Projects è una società di ingegneria, è nata nel 2016, quindi siamo relativamente giovani, siamo un'azienda di 700 persone, siamo cresciuti velocemente e diciamo nel nostro DNA abbiamo questa caratteristica. Abbiamo cercato di sviluppare, e di questo abbiamo un gruppo di circa 200 sviluppatori, un'idea diversa, cioè non fornire più servizi di ingegneria probabilmente detti come li conosciamo, ma attraverso l'utilizzo della tecnologia, cioè quindi abbiamo sviluppato nostri software proprietari o comunque customizziamo software esistenti per le esigenze del cliente che abbiamo davanti. Noi abbiamo clienti che partono dai grandi operatori alla pubblica amministrazione, ad aziende più piccoli, a multi company, a company e cerchiamo appunto di uscire un abito sartoriale alle esigenze che hanno di volta in volta gli interlocutori nella diversità delle loro esigenze. Come possiamo aiutare e come stiamo aiutando? Questo ovviamente cambia fondamentalmente a seconda dell'interlocutore, perché se parliamo dei grandi operatori loro arrivano da noi sapendo esattamente qual è la loro esigenza e dando esattamente a noi un compito chiaro. Se invece mi rallaccio al tema del convegno di oggi, parliamo per esempio delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle piccole amministrazioni. Non ci dimentichiamo che l'Italia è fatta da circa 7.800 comuni, scusate, di cui 5.400 sono sotto i 5.000 abitanti, quindi tipicamente sono comuni che non hanno capacità tecnica e di analisi sia amministrativa che tecnica appunto di gestire un bando, di mettere a terra quelli che sono i soldi propriamente per esempio del PNNR. Ecco, noi andiamo lì cercando direttamente all'amministratore, alla fonte, quindi andando direttamente dal sindaco e dicendo come oggi la tecnologia riesce a fare, mi piace utilizzare questo termine, democratizza orizzontalmente le capacità di un grande comune come Roma, come Roma Capitale, che è dotato invece di strumenti di analisi, a un piccolo comune come per esempio, penso a quello di Poggio Tomo, che potrebbe essere nella mia regione, che ha 90 abitanti, per cui banalmente il sindaco di Poggio Tomo come fa ad analizzare un bando che potrebbe ricadere sul suo territorio? Non ha strumenti né amministrativi né tecnici. Ecco, noi ci proponiamo come facilitatori in maniera da chiudere quel distacco che c'è fra la pubblica amministrazione centrale e le capacità di mettere a terra di un piccolo comune.